Pesaro, città che cambia. Il passaggio a zona arancione e le restrizioni che ne sono derivate non stanno frenando ruspe e cantieri disseminati in ogni quartiere della città. Riqualificazioni e demolizioni, come quella che riguarda l'ex consorzio agrario del porto nell'area di collegamento fra Viale Trieste e Calata Caio Duilio. In meno di 15 giorni sarà completato l'abbattimento di un edificio vetusto e degradato da anni. Il consorzio cederà il posto a due palazzi di sette piani che ospiteranno 70 appartamenti, più di metà dei quali sono già stati venduti ancora prima dell'essere costruiti. Le due nuove torri del porto saranno completate nel giro di due anni. Nella stessa area il comune ha previsto anche il nuovo collegamento ciclabile che unirà Viale Trieste al ponte di Soria e al tratto di Bicipolitana di Baia Flaminia. Se il consorzio è un simbolo del degrado, il vecchio hangar è invece l'emblema cittadino di fasti sportivi indimenticati e forse irripetibili. Al palasport di Viale dei Partigiani proseguono infatti i lavori e dopo l'eliminazione del tetto si sta procedendo a una nuova copertura e alla trasformazione dei gradoni che respirarono i due scudetti della Scavolini Basket in una nuova struttura polivalente, sportiva, culturale e turistica. Sport giovani e meno giovani si stanno invece impossessando di Via dell'Acquedotto. Dopo l'inaugurazione della pista di skateboard e pump track che hanno rianimato un luogo troppo spesso trascurato della città, è in fase di ultimazione anche il nuovo bocciodromo. Nuove strutture ma anche nuova viabilità. Tra pochi giorni sarà completata la rotatoria di Baia Flaminia adiacente al nuovo parcheggio ormai pronto ad ospitare le prime auto in sosta. Il tutto di fronte a un altro edificio d'impatto, il cantiere Rossini, che in questi mesi ha gradatamente modificato l'immagine del porto e della foce del Foglia.